La tecnologia gastronomica del futuro è andata in scena da poco nei Paesi Bassi, a Venlo, dove si è tenuto un incontro sulle stampanti 3D per gli alimenti. Sarà vera rivoluzione? L'azienda Byflow ha mostrato la sua stampante per alimenti 3D capace di produrre caviale di frutta. Sebbene una stampante così sia ancora una rarità, il responsabile di vendite dell'azienda guarda già al futuro. Stiamo andando indietro nel tempo, quando sono arrivati i forni a microonde e la gente si rifiutava di adoperarli perché non ne capiva la tecnologia. Questa è una tecnologia diversa, ma è lo stesso concetto. Quando questa mentalità entrerà in cucina si potranno stampare le proprie preparazioni. L'azienda Print Your Test è esposto su ultimo concetto plug and play. Consente sostanzialmente di disegnare una forma semplice su un tablet e poi di stamparla con una gelatina dolce. Gli ugelli della stampante sono stati creati apposta per la trasformazione alimentare. Dipende sempre dalle persone, per questo si può personalizzare. Se qualcuno ha carenza di vitamina D è possibile aggiungere un po' di vitamina D. Se qualcuno ha un altro deficit, per esempio non mangia abbastanza, è possibile aggiungere energia in forma di proteine o grassi. Oppure chi è obeso può aumentare la quantità delle fibre, in modo da potersi sentire pieno più velocemente ed evitare le calorie. Alcuni supermercati in Europa stanno già testando stampanti per fare delle torte personalizzate. Altri offrono dessert stampati. Sarà questo il futuro?